Ciao a tutti, è settembre, molti di noi ricominciano le attività lavorative in questi giorni, molti di noi aprono o riaprono, aprono per la prima volta o riaprono i propri studi di consulenza pedagogica. Per questo oggi nei consueti due minuti vorrei parlarvi di un tema importante di cui spesso ci chiedono e cioè del tema dell'assicurazione per la responsabilità professionale. Innanzitutto a chi compete di chi ha necessità di attivare l'assicurazione. L'assicurazione interessa soltanto a coloro che svolgono la libera professione perché chi lavora alle dipendenze di una cooperativa o di un'associazione deve essere coperto dall'assicurazione che invece deve essere fatta dal proprio datore di lavoro. Chi esercita la libera professione invece ha bisogno dell'assicurazione. Ora l'assicurazione non è obbligatoria per legge. La legge 4 del 2013 che riguarda le professioni non organizzate in ordini e collegi come pedagogisti ed educatori purtroppo non prevede un obbligo di assicurazione da parte del professionista. Io dico purtroppo perché avrebbe molto senso ma la cita all'articolo 7 come un'opzione. Detto questo però è importantissimo per il professionista essere coperto da un'assicurazione al punto che nel momento in cui si fa richiesta, i soci della PEI fanno richiesta di ottenere l'attestazione di qualità delle competenze professionali previste dalla legge 4 del 2013 e lo fanno come libera professione, gli stati devono dimostrare di essere assicurati. Naturalmente assieme ad altri requisiti. Ora, a che cosa serve l'assicurazione? Serve a non pagare di tasca propria perché può capitare che nell'attività che svolgiamo capitino eventi che danno luogo a responsabilità civile, anche eventi banali qualche volta. Può capitare che un utente cada per un pavimento non adatto e possono darsi luogo di obbligo di rimborso. Ovviamente si tratta di eventi rari, naturalmente, per fortuna, ma se capita proprio a me e se devono rispondermi di tasca mia, la cosa può diventare veramente molto spiacevole. Allora, per garantire questa possibilità, la PEI ha stipulato una convenzione per la copertura della responsabilità civile con una situazione che riteniamo seria, che nasce nel mondo della cooperazione e che a un prezzo molto buono riservato per i soci della PEI, su due fasce di massimale, copre le nostre attività professionali. Si tratta dell'Assimoco, Assicurazione del Movimento Cooperativo. Potete trovare le condizioni che abbiamo concordato che ci sono state riservate da questa assicurazione sul nostro sito www.apei.it, dove trovate anche la procedura per attivare la convenzione, che la trovate lì. Come al solito potete postare commenti a questo video per continuare a discuterne sui social, in cuba la pagina dal quale il video è stato pubblicato. Magari nel commentarli potete taggarmi perché naturalmente potrei non vederli, dipende da dove vengono pubblicati. Oppure potete scrivermi in privato. Ciao, a presto, ci vediamo nel prossimo spunto pedagogico.